Dall'alto di un elicottero la tragedia del terremoto appare in tutta la sua drammaticità. Amatrice, accumuli, arcuata e pescara del tronto, borghi medievali, fino a poche ore fa piccole perle dell'appennino dei parchi, ora rasi al suolo come dopo un bombardamento. Il sisma di mercoledì scorso ha portato con sé 290 anime, un bilancio purtroppo ancora provvisorio. La terra non cessa di tremare e le oltre 1300 scosse in tre giorni amplificano i sentimenti di dolore, paura e smarrimento delle 2444 persone che oggi guardano il proprio paese distrutto da una tenda della protezione civile. Nel giorno dei funerali delle 49 vittime marchigiane e del lutto nazionale, nelle zone terremotate è arrivato il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha voluto incontrare i sopravvissuti e ringraziare i soccorritori, quegli angeli della polvere arrivati da tutta Italia, che continuano a scavare senza sosta anche a mani nude dalle 3.36 di quel maledetto 24 agosto che nessuno potrà più dimenticare. Mattarella ha rassicurato tutti che lo Stato non lascerà soli i terremotati mentre si comincia già a discutere di ricostruzione. E qui il pensiero corre alla città di L'Aquila, dopo sette anni ancora semidistrutte dove al solo adesso si sta iniziando ad accelerare il passo dei cantieri. Il ministro del Rio è stato categorico, non ci saranno nuove new town in stile progetto case. Gli ha fatto eco anche Mattarella, che ha ribadito che i paesi saranno ricostruiti lì dove erano. Certamente però non sarà facile. In molti casi bisognerà battere ciò che resta e ricominciare tutto da capo. Ci vorrà tempo e soprattutto ci vorranno fondi per farlo bene e con criterio. Lo stesso che forse è mancato per la scuola di Amatrice e il campanile di Accumoli, appena ristrutturati e venuti giù come un castello di sabbia. Ma qui indagherà la magistratura. Oggi però è il momento delle lacrime davanti a quelle 35 bare, tra cui due bianche, simbolo di tutti coloro che non potranno raccontare questa immensa sciagura.